La Salernitana e il bomber Caetano Khalil ancora insieme. Dopo Tuya che ha rinnovato il contratto per altri tre anni, Pestrine e Bovo che sono vicinissime alla firma è la volta di Caetano Khalil. L'attaccante sarà un punto fermo della formazione Granata anche in Serie B. Lo ha detto Fabiani durante la presentazione ufficiale di Torrente e lo ha ribadito anche il nuovo tecnico. Per questo motivo la Salernitana ha blindato il calciatore che era richiestissimo da diverse società di B e di Lega Pro dopo l'ottima annata in Granata. Fabiani ha incontrato il manager del calciatore Alessio Ceccarelli e ha praticamente raggiunto l'accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2016. Un anno di contratto in più ed un sostanziale ritocco all'ingaggio. Khalil che qualche settimana fa aveva espresso intenzione di rimanere a Salerno sottolineando la preoccupazione di iniziare la stagione con l'incertezza di un contratto in scadenza. La Salernitana non si è fatta attendere ed ha raccolto la richiesta velata del bomber che è stato ben felice di prolungare e soprattutto del ritocco dell'ingaggio. Rimanendo in tema attaccanti martedì Fabiani incontrerà anche un altro bomber brasiliano Jefferson che sembra ormai vicinissimo a vestire la casacca Granata per la prossima stagione. Per il ruolo di portiere oltre a monitorare la situazione dello svincolato Bremec si pensa anche a Gianluca Curci classe 85 anche lui inserito nella lista degli svincolati. Prodotto del vivaio della Roma Curci ha militato anche nel Siena, nella Sampdoria e nel Bologna oltre a aver fatto l'intera trafila nella nazionale giovanile italiana dall'Under 19 all'Under 21.